Guarda Me lo devi far partire con il sapo Guarda Pantanova Dai, 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 dai Vai Ma lì che fuori Guarda Dai, 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 dai Guarda 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 Dai, Miki! Dai! Ascolti più in alto, dai! Sringi le braccia, Miki! Sringi le braccia! Forza! No, 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 no! No, 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 no! Dai! Mollare adesso, forza! 5 minuti e 4 secondi! Ciao! Grazie a tutti. Dai veloce! Veloce, veloce adesso. Rialzati subito, così. Velocizzati adesso. Finito? Sì. Dai, sei minuti e 16, forse è 16. Un minuto meglio.